Chiaro che la beffa è enorme? Sì, ci dispiace tanto perché ci tenevamo a portare comunque un risultato positivo a casa dopo la prestazione, secondo me è stata di livello contro la prima in classifica e nulla, siamo mareggiati ma è andata così. Fino all'espulsione di Drudi in campo c'era una squadra sola? Sì, fino all'espulsione di Drudi abbiamo tenuto bene il campo, siamo ripartiti parecchie volte pure sotto il profilo del gioco abbiamo fatto bene, secondo me il primo tempo l'abbiamo messi sotto loro secondo me erano un po' in difficoltà nel primo tempo e abbiamo dimostrato di esserci e ci dispiace per il risultato. Quanto è difficile a resettare tutto e tornare in campo pronti per un'altra grande partita domenica? Penso che non è difficile assolutamente, dopo la prova di stasera dove ci siamo confrontati appunto con una squadra forte, abbiamo tenuto così bene il campo, penso che ci deve servire solo da stimolo per le prossime partite. Perizio sta molto bene oggi, prestazione super? Sì, sto meglio fisicamente, comunque si può fare sempre di più.